È uscita la seconda puntata della serie di The Last of Us. Non so se avete visto la recensione della prima puntata, ma non mi erano piaciute alcune cose. Invece questa seconda puntata mi è piaciuta moltissimo, sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista narrativo. Allora, partiamo dal punto di vista narrativo. Farò spoiler solamente riguardo alla seconda puntata, chiaramente, perché, ripeto, la maggior parte di quelli che guardano questa serie hanno già giocato il gioco. E voglio parlare in realtà proprio anche di questo. Allora, dal punto di vista narrativo il prologo mi è piaciuto molto, perché dà delle informazioni in più, dà delle informazioni diverse. Cambia un po' anche le carte in regola e dà più informazioni sull'epidemia, su questo fungo. E anche qui la tecnica mi è piaciuta tantissimo. La scena in cui lei si trova ad esaminare il cadavere è una scena anche di tensione, se vogliamo. Cioè, nel senso, pur vedendo il buco in testa, quindi sappiamo che non può reanimarsi quel cadavere, comunque è una scena molto tesa alla fine. E poi c'è quella rivelazione bellissima, diciamo, cioè rivelazione. La professoressa che dice al militare di bombardare è emblematico, perché di solito la scienza va sempre contro un po' il militarismo, no? È anche una dicotomia ricorrente nei film, no? Gli scienziati contro i militari sfrenati. Qui è proprio la professoressa, la dottoressa, a dire bombardate. E questo fa percepire indirettamente la gravità della situazione. Lei poi che piange e dice che vuole andare dai suoi cari, rafforza ancora di più il tutto. E c'è questo carrello lentissimo, che piano piano poi fa un controcampo sul militare, poi chiude stretto sulla professoressa, ed è... va ad accentuare la portata, diciamo, della preoccupazione della professoressa e della... chiamo la rivelazione, ma l'informazione poi che ci dà la professoressa, che insomma è tutto finito, siamo spacciati. E a questo punto, visto che stanno dando molte informazioni sull'epidemia, sono curioso anche di vedere come, tra virgolette, giustificheranno l'immunità di Ellie. Perché vedremo se sarà un'immunità semplice così, oppure lo andranno a approfondire anche dal punto di vista, tra virgolette, scientifico. La puntata in realtà poi segue in modo molto preciso alla fine il gioco, cioè loro vanno nel museo, si scontrano con i clicker, arrivano lì, non trovano la... non trovano le luci, Joel ed Ellie proseguono e Tess rimane indietro. Non mi ricordo se nel gioco Tess viene morsa, questo scrivetemelo nei commenti, se ve lo ricordate, io non me lo ricordo. Però mi ricordo che ad arrivare da Tess, insomma, erano quelli della Fedra, se non mi sbaglio, cioè Tess rimaneva indietro per tenere impegnati, diciamo, quelli della Fedra, mentre Joel ed Ellie andavano avanti. Invece qui arrivano proprio gli infetti. E è una cosa che mi ero dimenticato di dire nella prima recensione, ma mi ha stupito anche un'altra cosa, la velocità degli infetti. Io non mi ricordo... mi pare che non fossero così veloci, invece qui sono proprio velocissimi. E viene inserito un'altra cosa che nel gioco non c'era, cioè il fatto che se tu calpe... cioè hanno una mente alveare gli infetti, tu chiaramente questo lo puoi intuire, in realtà poi tutti gli zombie si comportano come, diciamo, un tutt'uno, però qui addirittura si fa riferimento ai funghi per terra, cioè se tu calpesti un fungo ancora vivo, puoi risvegliare gli zombie, come poi succede alla fine della puntata. Joel spara a quel mezzo infetto, mezzo morto, e vengono risvegliati tutti gli zombie che erano fuori. Quindi, insomma, c'è anche questo, chissà se avrà un ruolo fondamentale questa cosa durante la serie. E, dicevo, qui invece Tess viene morsa e rimane indietro in quel bacio con l'infetto che, sinceramente, non ho capito. Cioè, perché l'infetto è andato lì a baciarla, tra virgolette? Cioè, chiaramente il fungo è entrato dentro e vabbè, ok. Però, mi sono chiesto perché si sono comportati in questo modo con lei? Forse perché era stata morsa, quindi con gli già infetti si comportano in modo diverso? Non lo sappiamo, lo scopriremo dopo. Ma adesso passiamo al punto di vista tecnico. Anche dal punto di vista tecnico, questa puntata mi è piaciuta molto. Nel senso che, se la prima puntata, anche a livello di fotografie, era un po' anonima, l'avevo trovata un po' anonima, sinceramente. Qui, invece, l'impronta di The Last of Us c'è. Cioè, in più di un'occasione prevale il verde, come prevale in The Last of Us, soprattutto negli esterni. Prevagono i colori di The Last of Us, questo giallo, misto seppia, questi colori qui. Quindi ci sono e, sinceramente, mi sono trovato più immerso nell'universo di The Last of Us. La fotografia anche mi è piaciuta. Quella scena dove... La scena iniziale, praticamente, dopo il prologo, dove c'è Ellie distesa, cioè, stesa praticamente sull'erba con questa luce che lo illumina, no? Eccolo, con questa luce che lo illumina e poi Joel e Tess in penombra, no? Quasi come a volere, appunto, rappresentare che l'unica speranza per l'umanità, l'unica luce, appunto, le luci ti ritornano, l'unica luce per l'umanità è Ellie, appunto, che è immune e, diciamo, rappresenta l'ultima e l'unica speranza per l'umanità. Quindi anche questa cosa mi è piaciuta, anche l'ultima scena con questa inquadratura di Tess in fondo praticamente sola, ormai lasciata sola per forza al suo destino, ma dal punto di vista tecnico la scena che mi è piaciuta di più è quella scena di tensione infernale nel museo con i clicker. E lì mi sono chiesto una cosa, cioè, come reagiscono quelli che non sanno? Perché io, chiaramente, avendo giocato il gioco, so che cos'è un clicker, so che non bisogna parlare, so che... so tutto, ok? E per questo anche sono in tensione, anche perché poi Ellie continua a parlare, quindi, sai, il clicker poi è dietro l'angolo, non bisogna fare rumore, so tutto questo e so anche a che cosa vado incontro, cioè che il clicker è una bestia che se dovesse prendere qualcuno, quel qualcuno è morto in 30 secondi. Quindi, sono in tensione proprio perché so a che cosa vado incontro. Mentre chi non sa, sono curioso di sapere com'è reagito, perché... anzi, scrivetemelo nei commenti se fate parte di quelle persone che non sanno, perché, sì, ti viene fatto vedere quello lì dilaneato dal clicker, quindi tu le potenzialità di quel tipo di zombie le percepisci, però poi non sai, e quindi da una parte può essere meno, può essere meno in tensione per questo motivo, ma dall'altra potresti anche essere più in tensione, perché appunto l'ignoto a volte fa ancora più paura di quello che è conosciuto, anche se si tratta poi di clicker. Parlando sempre di clicker, l'attore è perfetto, l'attore è veramente perfetto, anche la gestione proprio del clicker con i suoni, i suoni chiaramente sono quelli del gioco, perfetti, però c'è un'inquadratura che mi è piaciuta moltissimo, dove praticamente si vede il clicker che sta in fondo alla stanza, poi l'inquadratura si stringe su Joel, a quel punto noi sentiamo il clicker più vicino, infatti mi è piaciuta anche dare questa importanza all'audio, perché, come dice Lynch, l'audio è il 90% del film, il sonoro ti porta molto di più nell'atmosfera della cosa che stia raccontando, del film, della serie, eccetera, eccetera, molto più delle immagini a volte. Quindi mi è piaciuta anche questa importanza al suono nel caso del clicker, l'inquadratura si stringe su Joel, noi sentiamo il clicker più forte, si rigira e c'è il clicker là di fronte. Quindi quella bellissima, ma in generale tutta quella scena, il vetro che si spacca, Joel che dopo va sul vetro e viene scoperto per questo motivo, quella scena lì è veramente di tensione, molto 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 bella, anche se, diciamo che vabbè, è inevitabile questo tra virgolette difetto della scena, ma non è un difetto, nel senso che sai che Joel non può morire, anche se non hai visto della stovassa il protagonista, Joel non può morire, quindi lo sai, però comunque sei in tensione, perché chiaramente, come diceva Hitchcock, la suspense, la tensione, ce l'hai qualsiasi sia il personaggio in pericolo, sia che sia quello il protagonista, sia che sia un antagonista o chi che sia, ecco. Ho fatto un video sulla suspense secondo Hitchcock, quindi ve lo metto qui nel caso andatelo a recuperare. Ultime due cose prima di chiudere, il personaggio di Joel e l'interpretazione dell'attrice di Ellie. Allora, Bella Ramsey per me perfetta. Seppur non, abbiamo già fatto questo discorso nella prima recensione, quelle puttanate, no, non assomiglia a Ellie, puttanate, se uno è brava è brava, e lo sta dimostrando, perché secondo me sta interpretando bene il personaggio di Ellie, almeno fino a questo momento. Nel senso che è ironica come lei, scherza, ha quella battuta pronta, però vuole esempio anche... a volte sembra estranea, no, alla situazione, come se fosse fuori dal mondo, perché si mette a giocare, anche perché sostanzialmente è una bambina, quindi ci sta, e lo sta interpretando secondo me molto bene, è ironica come Ellie, insomma, l'ha assorbito molto bene il personaggio. Mentre per quanto riguarda Pedro Pascal, vabbè, bravo, non lo devo dire io, però il personaggio di Joel anche, in questa puntata, avevo detto perché, non mi era piaciuta una cosa in particolare della prima puntata, invece qui è stato fatto il ritratto di un uomo che non ha più speranza nell'umanità, proprio non ha più speranza di vivere, per lui la vita ormai non è più quella, non c'è più speranza di tornare alla vita precedente, e invece con Ellie imparerà che forse c'è speranza. Niente, la recensione finisce qui, a me, ripeto, è piaciuta questa seconda puntata, molto più della prima, però è un percorso lungo, la serie purtroppo si vede alla fine, il cavallo buono si vede sul lungo periodo, come si dice, quindi vedremo, vedremo, e niente, noi ci vediamo alla prossima, iscrivetevi, commentate, insomma, fatemi sapere che cosa ne pensate, e niente, alla prossima! e Grazie a tutti.